A noi il teatro ne sta cagare. Oggi ci sono gli spettatori paganti. E quanto abbiamo incassato? Oggi più o meno 15.000 euro. Bisogna incentivarlo al teatro, Daniel. Sei uno dei più bravi ventrilochi che io abbia mai ascoltato. Dove gliela infili la mano che non è scoperto? Vuoi fare il pupato? Non vuoi fare il pupato. Io ti voglio rivedere presto, quindi ti dico subito sì. Anch'io ti voglio rivedere presto.